Musica Riccardo Lazzarini torna ad allenarti dopo un mese di stop Si, ieri ho riniziato con la squadra, con il gruppo e sinceramente sono contentissimo perché dopo un mese non era facile, pensavo che lo stop fosse minore, invece è stata più lunga del previsto Infortunio recuperato, sei tornato quindi a disposizione completa della squadra con questi primissimi allenamenti in vista della trasferta di Fano Sì, io spero di essere convocato per domenica perché personalmente penso di non essere pronto per i 90 minuti però comunque la causa penso di esserci sempre Da adesso il Campobasso sarà impegnato in cinque partite per riuscire a mantenere il piazzamento per i playoff adesso si parla di una quarta posizione con qualche margine di vantaggio sulla quinta in ogni caso il Campobasso può puntare ancora a qualcosa di più Sì, nonostante la sconfitta di giovedì diciamo che è andata bene perché comunque le concorrenti hanno perso tutte quindi ora però dobbiamo fare queste ultime cinque partite cercando di rosicchiare più punti possibili anche perché insomma il quarto posto è alla nostra portata Come immagini che sarà la gara in casa del Fano che sappiamo è una delle squadre più in forma del momento? Lo hai detto tu, è la squadra più in forma, credo sia la partita più dura perché indubbiamente attualmente è più dura andare a Fano che a Macerata per la forma della squadra però noi contro queste squadre in forma di solito tiriamo fuori un bel caratterino quindi spero sia così anche domenica Pensi che la lotta, non riguarda direttamente il Campobasso ma pensi che la lotta al vertice sia ancora aperta? Sinceramente non lo so, non lo so perché io spero si chiuda domenica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti